Lewis Hamilton si spoglia delle vesti di pilota di Formula 1 e indossa giacca e cravatta davanti al primo ministro della Malesia, Najib Razak. L'occasione è l'inaugurazione dell'ottavo forum economico-islamico mondiale che si è aperto a Johor Bahru in Malesia. L'ex pilota della McLaren da poco in casa Mercedes ha regalato al premier malese una giacca da pilota nera con tanto di firma. Hamilton si è fatto portavoce della campagna di promozione della futura Motorsport City a Gerbang Nusa Jaya, una piccola cittadina nel sud della Malesia, al confine con Singapore, dove si sta pensando a una nuova pista di prove per la Formula 1 della lunghezza di 4,5 km. Un'occasione per rilanciare l'economia del paese della Tigre e per Hamilton un circuito dove poter sfoggiare ancora una volta la propria bravura.